Giovanna Ferraro, direttrice dei lavori del Diximud che sono appena iniziati, intanto quanto durerà l'intervento e che costi? Allora, l'intervento durerà circa due mesi, speriamo di finire per metà gennaio, tempo permettendo. I costi si attestano legati alla sola lavorazione sui 60.000. Che tipo di intervento si tratta? Intanto di manutenzione ordinaria, non lavoriamo sulla parte strutturale della colonna, quindi procederemo con l'idropulizia delle pareti, tutta la superficie, poi dell'asportazione delle parti ammalorate e la successiva applicazione di boiac e poi pittura a base di resine silossaniche, quindi più duratura e garantiscono più durabilità all'intervento. E poi procederemo con la sistemazione della parte circostante, quindi della sostituzione delle ringhiere ammalorate, piuttosto che delle parti di marme, della pavimentazione e l'implementazione dell'illuminazione, sia alla base che alla sommità della colonna. Assessore Di Mino, finalmente l'avvio di questo cantiere che tanto si aspettava in città, perché questa è una colonna votiva che ha un significato e soprattutto simboli. È sicuramente uno spazio importante per la città di Sciacca, uno spazio importante perché racconta storia, tradizione, è un passato sicuramente brutto, ma un passato che va ricordato, perché naturalmente è legata alla tragedia di X-Mood, ma anche alla grande opera che Padre Elena fece per recuperare i corpi e per anche mettersi in contatto con le autorità francesi. Quindi sicuramente è uno spazio importante e dobbiamo essere orgogliosi che questi lavori sono iniziati entro l'anno. C'erano state delle ditte private, insomma, è tortuoso l'avvio di questa manutenzione che la direttrice ci ha spiegato, è ordinaria, però adesso questa mattina l'avvio di questo cantiere, soldi avuti anche con l'approvazione di un emendamento al bilancio comunale. Sì, l'emendamento è stato proposto dai consiglieri d'opposizione e votato ad unanimità. Quindi naturalmente c'è stata una collaborazione importante tra le forze politiche, perché comunque questo è un monumento che rappresenta la storia. Quindi questo dimostra ancora una volta che quando c'è il bene nella città si può anche stare uniti e si può anche andare insieme. Lei ha annunciato che al termine di questi lavori, la direttrice ci ha appena detto che si presume, tempo permettendo, a gennaio, una bellissima inaugurazione. Lei l'aveva promesso? Sì, noi l'anno scorso, nel mese di dicembre, siamo andati nella città dove c'è il monumento di X-Mood, che è la città dove è partita appunto dirigibile. Quindi naturalmente noi ricambieremo l'invito alle autorità francesi e farle venire qui. Servirà una grande manifestazione anche perché è giusto che Sciacca ricordi questo momento. Naturalmente coinvolgeremo anche le scuole, perché il coinvolgimento delle scuole è fondamentale, coinvolgeremo le autorità francesi e magari anche l'aeronautica francese.